Buongiorno Giuseppe SOS, qui abbiamo bisogno di un attore perché stiamo facendo le prove e c'è Lino che è pessimo, cioè è rigido, non riesce a fare niente, è un pesco di legno No, c'è qui Marco che sta facendo il regista e noi che stiamo cercando di spingerlo ad essere un po' più sciolta ma niente, abbiamo fatto non so quante prove ma non ci riesce Tu ogni caso che fai del caso, sposti il corpo, perché se fai questo, se non hai appoggiato, io non posso spostare questo E' bello, ma perché non riprendi anche le lezioni? Questo è un voleo, sempre nel tambo, tutti i passi, se stanno con i ginocchi, chiudono qui, non è un ginocchio più avanti dell'altro Dunque se ti tocca fare un voleo, fai un switch, questo, e l'altro fa questo E' sempre questo Non serve di scontare? No, no, devi spostare il corte in modo graduale che rimane sempre tra le due gambe Non è ne così, ne così Non è tanto Non è tanto Non è la caretta di darci Sempre, sì, con queste cose sempre di scena No, non è visto Tan, 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 sempre di scena Dai Dai, tira, canto Sì, no, unisci i ginocchi insieme Buongiorno Perché è giuro? Ti sei bruciato perché è giuro Marco, non è giuro Ah, sì? Togliti, togliti E' bellissimo questo, aspetta che ti zoom Grande, questo è grande Eccolo, ma abbiamo anche un grande attore Ma abbiamo anche un grande attore Eh, ma quando ti sei perso? Una di che nasce a trovare Esatto Due uomini e una donna E che donna? Chiappa che aggancia la mutandina Prima Da sola La risucchiata La risucchiata È importante Se no la gente non guarda Esatto La risucchiata Sì, no la gente non guarda ok why did you do that pen this this no, but excuse me, let's take it from there yes, take it from there no, this is fine take the panorama yes, okay so, from there go, go, go how do you do this pen go, go 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 stop 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 too so now you go and then you go into it right like this no but ok you can see what the process dai 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 ma chi ti frega dai